Pustiamoci, cioè rimaniamo sui libri ma usciamo dall'America, anzi rimaniamo proprio in territorio italiano perché è uscita proprio ieri la nuova classifica dell'indiscreto che come sapete è una rivista online che appunto ha creato queste classifiche di qualità. C'è una giuria di critici, scrittori, riviste letterarie librerie indipendenti, giornalisti, editor, anche noi, insomma c'è un po' di tutto. Sono uscite queste classifiche che periodicamente ci danno un po' l'idea di quello che il mercato editoriale ci propone e di come sia stato accettato o non accettato, quanto sia piaciuto. Per quanto riguarda la narrativa vi dirò i primi posti, insomma c'è Nicola Laggioia al primo posto con la città dei vivi, esatto, Giulio Mozzi con le ripetizioni di Marsilio, Filippo Tuena, ultimo parallelo del saggiatore, Giulia Caminito, l'acqua del lago, beh basta, questa cosa auto-incensatoria, si dice? Giulia Caminito, l'acqua del lago non è mai dolce, pubblicato da Bonpiani, quinto posto Antonella Lattanzi, questo giorno che incombe HarperCollins e poi ce ne sono molti altri. Per quanto riguarda la saggistica, al primo posto abbiamo Riccardo Falcinelli con figure, posso dirlo? No, c'è poi da autori vari, la scommessa psichedelica, Quodlibet, Chiara Fenoglio, Leopardi moralista, Marsilio, Lisa Cuter, questo lo volevo leggere, ripartire dal desiderio, Minimum Fax, Eric Gobetti e allora Le Foibe, pubblicato dalla terza. C'è anche la poesia. No, aspetta, 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 perché al nono c'è Paolo di Paolo, svegliarsi negli anni venti, intervistato. Sì, ho capito, ma non leggo i primi, e al quattordicesimo Francesco Costa, che avete appena sentito su letture metropolitane e su radioelettrica. La poesia vede al quarto posto una nostra conoscenza di cui siamo molto felici, ovvero Viola Lomoro con Cuore Allegro. Il fumetto, anche in questo caso, ci dà delle soddisfazioni, ma anche delle cose interessanti, perché al primo posto troviamo Miguel Vila con Padova Land, pubblicato da Canicola. Secondo posto per Gipi con Aldo Brando. Terzo posto per Alberto Schiavone e Maurizio Lacavalla con Alfabeto Simenon, di cui abbiamo parlato. Mi prudono le mani, ormai. Zero Calcare, quarto posto con Scheletri e quinto posto Bruno Martini con Patria, pubblicato da Becco Giallo, un libro molto bello di cui abbiamo parlato recentemente. Il succo di questo intervento non è semplicemente fare il fanatico, ma l'intento dell'indiscreto, della classifica di qualità e un po' l'intento di letture metropolitane si incastrano in questa situazione. Noi con le interviste, ma anche con lo spazio di libri di asporto, vogliamo fortemente segnalarvi dei titoli che magari sulla televisione o in televisione o nelle classifiche non compaiono, ma perché semplicemente c'è meno spazio. Posso testare la gioia, che è un'eccezione che conferma la regola, perché poi non è detto che i libri, anzi l'abbiamo detto cento volte, che i libri che escono sulle classifiche ufficiali non è che non sono belli e che sono belli solo gli altri, assolutamente no, però è interessante avere un panorama più ampio. Se andate appunto sul sito dell'indiscreto trovate la classifica è molto lunga, quindi ci sono praticamente tantissimi suggerimenti su cose che si possono leggere e che sicuramente sono interessanti, potete trovarle interessanti. Nella fattispecie questa edizione, questa classifica di qualità uscita nel febbraio e anzi è aggiornata al febbraio 2021, prende in analisi i libri usciti dal 1 ottobre 2020 al 4 febbraio 2021. Quindi sì, proprio questi a cavallo del Natale, che poi è uno dei momenti in cui escono più libri in assoluto. Troverete anche quelle precedenti nell'archivio e troverete, ripeto e chiudo, anche per dire, non ascoltate sempre Flavia Capone, che è un po' lo sminuendo del duo, perché troverete tante persone che vedete già sentite da queste parti e siamo molto contenti che le due cose si incastrino e dialoguino tra loro. Andiamo avanti? Sì. Cosa vuoi mettere? Domi di non me fa queste cose all'ultimo secondo, che lo sai che poi mi viene il patema d'animo. Il patè? Il patè d'animo. Bene. Il patè di non me fa queste cose all'ultimo secondo, che è un po' lo sminuendo, che è un po' lo sminuendo, che è un po' lo sminuendo. Il patè è un po' lo sminuendo.